Sono Valeria Giordano e sono il Presidente e rappresentante legale della Lio Lipedema Italia Onlus. Siamo reduci da un evento importante che è stato il primo evento nazionale dedicato interamente alla patologia dell'ipedema. Il nostro convegno è stato un evento unico nel suo genere e devo dire che posso ritenermi veramente soddisfatta del lavoro che ha fatto la Lio fino ad adesso e che è culminato con questa giornata che noi abbiamo dedicato totalmente a pazienti e professionisti. Il feedback che sto ricevendo un po' da tutti è un giudizio veramente positivo in cui mi piacerebbe veramente ringraziare tutti i partecipanti sia i pazienti che i professionisti che le aziende e tutte le persone che ci hanno aiutato a sviluppare questo evento. Quello che ci raccontano le pazienti che noi rappresentiamo è che la speranza dopo questo evento è che adesso non possiamo più essere ignorate. Dopo questo evento è come se avessimo lanciato una dichiarazione di esistenza. Quindi non ci possono più ignorare le istituzioni, non ci possono più ignorare alcuni medici che dicono che la nostra patologia non esiste. Abbiamo riconosciuto alle pazienti che rappresentiamo il diritto all'esistenza, il diritto ad una cura e a dei trattamenti adeguati. Abbiamo fatto anche tantissima opera di sensibilizzazione, non solo a livello familiare, perché dopo questo evento noi vorremmo che chi ci ascolta sia a conoscenza della patologia. Quindi se il fidanzato, il marito, il parente di una paziente affetta da lipedema non si accosti a lei dicendo che è pigra o che non si impegna abbastanza o che dovrebbe fare alcune cose, ma pensi che la persona che gli è accanto è una persona malata che ha bisogno di cure mediche e non di andare a correre o fare la dieta o fare qualsiasi altra cosa. La sensibilizzazione l'abbiamo fatta anche a livello istituzionale, attraverso comunque i nostri medici. Questo è un momento estremamente importante, di grande fermento per il riconoscimento della patologia. Il dottor Sandro Michelini è impegnato da tantissimo in prima persona per aiutarci ad essere riconosciute anche a livello di organizzazione mondiale della sanità e sta preparando appunto un position paper per la redazione delle linee di indirizzo ministeriali mentre lo stesso comitato scientifico della Lio a sua volta sta producendo un documento che è più invece magari un vademecum pratico per aiutare i professionisti che vogliono accostarsi alla patologia e cominciare a curarsi a cominciare a dare delle indicazioni di modo che cominciamo a curare le pazienti in una maniera pertinente seguendo una serie di indicazioni procedurali, pratiche sulla clinica che vengono dai professionisti che ci curano più spesso e che sono redatte sulla base delle linee guida dei paesi che se ne sono dotate quindi comunque un vademecum per professionisti proprio per non lasciare tutti nell'anarchia e nella più totale discrezionalità in cui si viaggia più spesso soprattutto nell'ambito della confusione e commistione con le altre patologie come il linfedema, come l'obesità eccetera e le nostre pazienti hanno rappresentato moltissimo la difficoltà di trovare dei professionisti in grado di trattare la patologia quindi quello che abbiamo fatto a livello istituzionale è stato comunque cercare di aumentare la rete dei professionisti della Lio e speriamo che con questo convegno siamo riusciti a sensibilizzare ancora di più e quindi speriamo che in molti ci contatteranno per poter essere inseriti nei nostri elenchi medici Il nostro convegno è stato non solo un'occasione importantissima per fare il punto della situazione sullo stato dell'arte, sull'ipedema, sulle cure eccetera ma è stato anche un momento importante dal punto di vista dell'aggregazione per i pazienti e del far sentire l'affetto della Lio alle persone che assiste come tale abbiamo deciso di concluderlo con un momento ludico, anche un po' frivolo che è stato quello della sfilata di moda, che però in realtà non ha assolutamente nulla di frivolo perché ci siamo divertite moltissimo, è vero, ma il messaggio che vogliamo lanciare è stato un altro è quello che comunque dopo tutto quello che i nostri medici e noi stesse cerchiamo di fare per farci riconoscere come malate, noi non vogliamo sentirci soltanto come malate siamo donne e vogliamo poter fare qualcosa per sentirci anche belle è stato veramente bello vedere sfilare persone di tutte le taglie, persone affette da l'ipedema di tutte le stadiazioni, c'è stata anche una persona in stato di gravidanza quindi comunque una nostra paziente che aspetta un bambino che è un momento importante nella vita di una donna e che in genere una paziente con l'ipedema vive con un grandissimo terrore e invece comunque noi abbiamo voluto lanciare questo messaggio di si può ballare e cantare anche nel momento in cui ti fanno talmente tanto male le gambe che non cammini più e quindi però vogliamo dare anche importanza alla parte dell'estetica perché è vero che noi siamo malate, vogliamo essere riconosciute come tale ma l'ipedema è anche un problema estetico noi rappresentiamo anche tantissimi pazienti in stadio d'esordio della patologia che non hanno avuto ancora una compromissione funzionale quindi non siamo tutte in carrozzina insomma anzi e quindi non hanno avuto una compromissione funzionale non hanno avuto ancora una sintomatologia dolorosa invalidante e che però sono totalmente meritevoli di tutte le cure possibili e di tutte le attenzioni anche proprio per non progredire presso stadiazioni superiori e queste sono persone che però soffrono moltissimo e non è che soffre soltanto la paziente che ha il dolore lancinante per il quale non riesce a dormire soffre moltissimo anche la paziente che ha un fortissimo disagio psicologico dalla deformazione progressiva del corpo, dai cambiamenti repentini che subiamo noi volevamo lanciare il messaggio che comunque siamo belle, siamo colorate e nonostante tutto questo possiamo essere ancora attraenti nonostante le deformità e le cose negative che la malattia ci comporta che non sono soltanto il dolore ma è anche la deformazione estetica e quindi abbiamo tutto pieno diritto di essere curate anche dal punto di vista estetico e io insisto moltissimo su questo discorso dell'estetica perché io vorrei essere il presidente che rappresenta tutte le tipologie di pazienti è chiaro che comunque le pazienti si riescono ad identificare in me quando hanno delle grosse difficoltà motorie, quando hanno una grave compromissione funzionale invece io vorrei che tutte le pazienti affette dall'ipede ma anche quelle in stadiazione più precoce potessero identificarsi non solo in me ma anche in tutta quanta la Lio vorrei che la Lio potesse rappresentare tutte veramente e io mi rendo conto che comunque ad uno stadio iniziale della patologia il disagio estetico è una componente importantissima che porta a dei gravi quadri di depressione, ansia proprio perché non vieni riconosciuto come malato e soprattutto anche perché non sai dare una spiegazione di queste deformazioni progressive che avvengono sul tuo corpo spesso vieni accusata di questo e se non c'è consapevolezza della patologia non riusciamo ad uscirne la parte estetica è importante perché noi comunque siamo donne siamo donne e vogliamo comunque essere belle il messaggio che volevamo lanciare con la sfilata è esattamente questo che non è affatto un messaggio frivolo perché è un messaggio che funziona moltissimo anche nei reparti di altre patologie esclusivamente femminili faccio un esempio banale anche toccando la mia storia patologica personale nei reparti della ginecologia oncologica nessuno si pone il problema se siamo malate o non siamo malate eppure la parte estetica è importante noi nonostante il mondo del cancro ti insegna anche che comunque la malattia si affronta in maniera diversa se non si perde la speranza e se comunque si continua a curare il proprio aspetto poi magari sono tutte frivolezze, illusioni perché i capelli finti, tutto quello che correda anche la parte della patologia però avere un estetista in ospedale che ti aiuta a dipingerti le sopracciglia quando non ce l'hai più è una parte importante delle patologie femminili importanti e potrebbe diventare una parte importante anche nell'ambito della gestione dell'ipedema La Lio è nata nel 2016 dal grande cuore di Annalisa Bianchi che è la nostra vicepresidente che è stata la prima in assoluto ad aver radunato tutte le malate di lipedema in un semplice gruppo Facebook perché abbiamo deciso di costituirci in associazione perché avevamo bisogno di avere più peso avevamo bisogno di rappresentare le malate di lipedema non soltanto facendo questo tipo di assistenza aiutandole nel quotidiano ma volevamo che le malate di lipedema ottenessero qualcosa di più e ci siamo costituite quindi in associazione l'anno scorso e da quest'anno siamo diventate Onlus nel momento in cui abbiamo ricevuto lo stato di Onlus le cose hanno preso una grande accelerata ci siamo dotate del comitato scientifico abbiamo cominciato a collaborare con i medici a sensibilizzare l'opinione pubblica e per chiunque voglia informazioni più dettagliate cercateci sul nostro sito info lipedemaitalia.info lì ci sono tutte quante le informazioni ci sono le nostre convenzioni e le agevolazioni che concediamo alle nostre socie malate attraverso una serie di convenzioni che facciamo con le aziende e con i medici per cercare di aiutarle nell'ambito della parte più difficile ovvero la sostenibilità economica delle terapie e cercateci attraverso i nostri canali social attraverso Facebook, attraverso Instagram e volevo un ultimo secondo per poter ringraziare tutte quante le persone che ci hanno consentito di portare avanti questo evento al meglio delle nostre possibilità speriamo di fare ancora meglio in futuro e il grazie più grande va alle ragazze del direttivo della Lio che hanno condiviso questa cosa insieme a me e con cui spero di continuare a lavorare in questa maniera così proficua come è accaduto per questo evento Restate in contatto con noi, seguiteci perché per l'anno prossimo abbiamo in cantiere un importante evento che prevederà la partecipazione di vari ospiti internazionali relatori, associazioni di pazienti e vi ringrazio ancora per la vostra attenzione Grazie a tutti